Musica Domani alle ore 10 in piazza Gramsci di fronte al monumento all'unità d'Italia si formerà il corteo con le autorità cittadine, associazioni combattentistiche e cittadinanza. Alla manifestazione parteciperà anche l'AMPI, associazione nazionale partigiani d'Italia, rappresentata in provincia di Ragusa dal senatore Gianni Battaglia. Il 25 aprile è una giornata importante non solo perché celebrativa di un fatto storico, il fatto più importante del secolo scorso, c'è la liberazione dal nazifascismo, ma perché ogni anno è una giornata che consente, attualizzandola, di protestare, di celebrare, di manifestare per riaffermare i valori che ci sono stati consegnati grazie alla lotta di liberazione. Quest'anno quanto mai è attuale, visto l'odio che si sta spargendo nel paese, visto l'intolleranza sociale. Le manifestazioni che si fanno in provincia di Ragusa sono diverse, a cui l'AMPI aderisce. Domani mattina la manifestazione ufficiale che avrà inizio, appunto, come è stato detto, da piazza Gramsci, ma nella tarda mattinata e per l'intero pomeriggio a Vittoria, al Parco San Bartolo, l'AMPI organizza una manifestazione popolare. E poi ci sarà una importantissima giornata, il 29, al Cinema Lumiere, dove sarà proiettato con la presenza del regista un film sul comandante Barbato, sul capo partigiano siciliano Pompeo Colaianni, che l'AMPI, la CGL e il Libera vogliono ricordare nel 74esimo anniversario della lotta di liberazione. Invitiamo pertanto tutti a partecipare a tutte le manifestazioni che si fanno a partire da domani e a questo appuntamento importante di giorno 29. Grazie a tutti.